Come monetizzare un blog? Questa è davvero una bellissima domanda, soprattutto farlo in qualsiasi nicchia, anche quelle più sfidanti, e poter generare un intero stipendio consistente o addirittura solo una seconda entrata, proprio grazie a questo strumento. Alla fine di questo video ti spiegherò e imparerai quelli che sono i quattro principi imprescindibili per portare davvero alla monetizzazione un blog. Prima di iniziare ti do il benvenuto, sono Monica Pirozzi, copywriting expert e fondatrice di Copy Gateway, la community italiana, per lanciare e far crescere il tuo business nel copywriting. Se non vuoi perderti strategie e tips per lanciare il tuo lavoro senza vincoli grazie alla scrittura online, lasciami un pollice in su a questo video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Ora, sei appena deciso di aprire un blog oppure ne hai già uno su cui scrivi da tempo ma non stai ottenendo risultati monetari che ti stavi aspettando oppure addirittura non hai ottenuto nessun risultato economico che è quello che succede nella maggior parte dei casi, sappi che spesso quello che succede è, analizziamo un po' il processo che hai fatto, è questo. Punto numero uno, ti piace scrivere, ami la scrittura. Punto numero due, pensi che il modo più facile per iniziare sia iniziare ad aprire un blog perché è un contenuto lungo, un contenuto long form in cui puoi divertirti un po' di più, a scrivere qualcosa di più, lasciare andare la tua creatività, quindi in qualche modo tramite piattaforme gratuite oppure se sai smanettare un po', hai aperto questo blog. E terzo, ti sei stancato dal tuo lavoro attuale, molto probabilmente decidi di lasciarlo oppure vuoi iniziare effettivamente a monetizzare tutto questo lavoro che fino a questo momento hai fatto. Potrebbe essere che l'hai aperto a qualche settimana, qualche mese oppure addirittura da un anno e più e sai dentro di te che alla fine il tuo obiettivo era arrivare a quello. Pensi di iniziare come un blog che ti possa portare un po' di svago, se vogliamo, ma poi c'è sempre quel pallino in testa che vuoi che diventi qualcosa di più e che diventi la tua vera professione per arrivare a monetizzare quello che è la tua passione per la scrittura. Ora, non preoccuparti, questa è la situazione in cui in tantissimi si ritrovano dopo aver aperto il blog ed è proprio per questo ho deciso di creare un video più lungo in cui ti spiego quali sono i principali errori che devi evitare se anche tu vuoi portare alla monetizzazione il tuo blog. Ti assicuro che solo questi quattro principi che vedremo nella seconda parte di questo video ti aiuteranno davvero a fare un salto considerevole. Anche io ho aperto il mio primo blog nell'anno 2016, ormai saranno passati 7 anni e ho scelto come nicchia il travel in inglese, quindi scrivo articoli di viaggio in inglese e ti assicuro che è stato un vero suicidio come scelta della nicchia, ma questo ovviamente l'ho capito dopo e solo il mio terzo blog nel corso degli anni è arrivato davvero al successo quello che per me era ovviamente il successo, quindi iniziare a vendere dei miei prodotti digitali che mi portavano solo grazie al blog migliaia di euro di ingressi al mese. Tutto questo ovviamente come hai potuto capire dopo svariati anni quindi non è successo tutto dalla sera alla mattina. Ma adesso non preoccuparti perché ti spiego tutto nei dettagli. Prima di passare alla seconda parte di questo video, se vuoi veramente fare della tua scrittura un lavoro, iniziare a costruire un tuo business senza vincoli grazie al copywriting, ti invito a iscriverti alla prossima masterclass gratuita che trovi qui sotto in descrizione. Vai al link e prendi tutte le informazioni perché sono davvero di livello. Ma adesso torniamo a noi, quali sono i quattro principi per monetizzare sul serio un blog e non lasciare degli articoli lì che non ci portano dei risultati e poi ci sentiamo ovviamente, come dire, demotivati da non vedere un risultato. Premissimo principio è inverti il processo di monetizzazione. Cosa significa? Questo è un passaggio straimportante di un errore che ho visto praticamente al 90% dei blog e delle persone che mi hanno contattato per capire come monetizzare il blog. Sostanzialmente quello che fai quando inizi a scrivere un blog è inizio a scrivere di ciò che mi piace, quindi inizio a buttare giù contenuti e in una seconda fase spero di monetizzare, un po' come se fossimo in chiesa. Ho la fede che si può fare, credo in Dio, ma non so effettivamente se c'è o non c'è qualcosa. Devo avere fiducia, devo avere fede. Ecco, nel marketing funziona al contrario. Quindi quello che dobbiamo fare è invertire questo processo. Prima di tutto inizio a capire di cosa posso parlare perché il motivo fondamentale per cui molti blog non monetizzano è che non hanno proprio la possibilità di monetizzare perché la nicchia che è stata scelta, il verticale che è stato scelto è sbagliato perché è troppo generico, perché non c'è mercato. I motivi possono essere tantissimi ma ciò di cui parli è fondamentale. Fare uno studio a monte di quelli che sono gli argomenti che andrà a trattare è praticamente una caratteristica del successo. Quando capirai l'argomento giusto e secondo step inizierai a scrivere con un piano preciso allora a quel punto vedrai che anche in 3-4 mesi inizierai a vedere un incremento del traffico e poi vedremo come monetizzare questo traffico. Ora, secondo principio è un blog è uno strumento tecnico. So che può sembrare uno strumento molto molto creativo e in parte lo è ma il problema è proprio questo, che la maggior parte delle persone si focalizzano solo sullo strumento tecnico quindi lo scrivere bene, raccontare le nostre idee, raccontare di noi, raccontare della nostra giornata non è così. Se non assecondiamo i principi della SEO, quindi la Search Engine Optimization l'ottimizzazione sui metori di ricerca e creiamo un piano verticale andiamo a studiare a livello tecnico quello che è il marketing, la SEO e il copywriting non abbiamo proprio le basi, le competenze per creare un blog che sia monetizzabile. Dunque, anche qui, so che da fuori tutto può sembrare bello, può sembrare ovattato e anche io sono partita da lì. Poi quello che ho fatto è stato, ok, mi domando perché non funziona? Come posso fare a farlo funzionare? E negli ultimi 5, 6, 7 anni ho studiato il marketing, ho studiato la SEO ho studiato il copywriting e aggiungendo tantissimi tasselli di competenze importanti sono arrivata a monetizzare un blog. Dunque, cercare di monetizzare un blog senza averne le competenze o credere che le sole competenze di scrittura portino alla monetizzazione ti porteranno fuori strada, perché non è assolutamente così. Anzi, più sei forte con la parte tecnica e più puoi ottenere dei risultati. Terzo principio, terzo pilastro è devi avere un'offerta da proporre ovviamente all'interno del mercato che sia coerente e che abbia una ragione di esistere. Che cosa significa? Analizziamo questa frase che è davvero ricca di significato. Innanzitutto per monetizzare, tendenzialmente monetizzare tanto con un blog devi avere un'offerta, devi offrire un prodotto, un servizio all'interno del mercato perché prima era molto più facile farlo proponendo prodotti, quindi affiliazione o magari con le pubblicità all'interno del blog. Adesso invece, soprattutto la parte pubblicitaria, quindi le pubblicità all'interno del blog si stanno un po' affievolendo, quindi se vuoi veramente guadagnare tanto devi avere un tuo prodotto, devi offrire qualcosa all'interno del mercato e qui va anche al di là del blog, della scrittura, magari potresti creare un videocorso quindi devi avere le competenze per creare un videocorso, devi offrire delle consulenze e quindi devi capire come erogare consulenze, che cosa andare a dire all'interno di queste consulenze e quindi ti rendi conto che diventa un mondo totalmente diverso. Quindi andiamo a vedere quali sono le caratteristiche di questa offerta che devi creare all'interno del mercato per avere effettivamente un successo. Prima di tutto deve essere un'offerta coerente. Cosa significa coerente? Che non posso inventarmi l'offerta del secolo, deve essere coerente con quello che sta cercando il mercato e con quello che è l'argomento che io ho scelto. Perché se io parlo di A e propongo B, nessuno mi seguirà, nessuno vedrà l'ora di comprare questa offerta. È un po' come se vai su questo canale YouTube in cui parlo di copywriting, parlo di blog, parlo di scrittura online e poi a un certo punto ti propongo un corso di cucina. Chi comprerebbe mai un corso di cucina da me dopo che ho distribuito sul web migliaia di contenuti dedicati a tutt'altro? Ma soprattutto se non ho un'offerta coerente che il target dall'altra parte veramente sta cercando. Magari monetizzare la propria passione per la scrittura. Sì, ok, la persona dall'altra parte lo stanno cercando e quindi è un mercato che può generare una monetizzazione. Quindi dall'altro lato ci colleghiamo alla seconda caratteristica dell'offerta. Deve essere un'offerta che abbia una ragione di esistere, che le persone hanno veramente motivo di acquistare. Perché magari sono interessato a un corso di cucina, ma non comprerei mai un corso di cucina in cui tu mi insegni soltanto a fare il tiramisù. Perché? Perché magari vado su internet, già lo zafferano, trovo la ricetta e non ho un motivo di acquistare. Sì è vero, ho l'esigenza di sapere come fare il tiramisù, tra virgolette, ma non ho l'esigenza di acquistare un corso. Non ci vedo valore perché ci sono anche tantissime altre risorse online che rispondono a questo problema in maniera gratuito. Quindi capire perché le persone dovrebbero acquistare dall'altra parte. E ultimissimo principio, anche qui torniamo un poco agli inizi, è analizzare i dati. Mettere un articolo online e dire o non sta funzionando oppure o il mio blog non sta funzionando, è un anno, un anno e mezzo, senza aver mai visto un dato, nessuno potrà mai risponderti, nessuno potrà mai aiutarti. Perché anche se vai nel super esperto, top mondiale di blog e gli dici, ok ho un blog da un anno, ho un blog da due anni, ho un blog da dieci anni, ma non sta monetizzando? La prima cosa è leggere quello che è successo fino a quel momento. E se fino a quel momento non hai letto i dati, molto probabilmente stai andando in una direzione sbagliata, oppure non hai gli elementi per capire in che direzione andare. Dunque, mensilmente analizzare sempre i dati, scriverti i dati dei tuoi articoli, come stanno andando, quali sono gli articoli più letti, quali sono le parole chiave che hai scelto, o come si sta posizionando questo blog su Google, è di fondamentale importanza, ma anche legarlo a tutto uno studio qualitativo, quindi i commenti, le persone cosa ne pensano, per capire che direzione prendere. Solo applicando, imparando a applicare, lasciando anche un po' andare quella che è, se vogliamo, la tua passione sfrenata dello scrivere di tutto, applicando questi principi, ti aiuteranno tantissimo a costruire un blog che sia monetizzabile, o anche capire che il tuo blog attuale, questo è molto importante, non ha le caratteristiche in questo momento per essere monetizzabile.